Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video di informazione libera un'informazione da un punto di vista differente, libero e indipendente perché si sa che ormai il vero giornalismo viene solo dalle piazze e dalle strade Oggi sono qui per comunicarvi le date e gli orari delle manifestazioni No Green Pass che si terranno da qui fino a data da destinarsi O meglio, ogni sabato a Milano in piazza Fontana dietro al Duomo per chi non la conoscesse alle ore 17.30 inizierà il corteo che farà il giro per le strade di Milano Vi invitiamo calorosamente a condividere questo video per diffondere il più possibile questa notizia perché sabato 7 agosto 2021 alla manifestazione di Milano Molte persone per strada non sapevano neanche l'esistenza di questo ritrovo e di conseguenza non hanno partecipato Invece, chi sapeva l'esistenza di questa manifestazione aveva date e luoghi sbagliati sbagliati di proposito dai media mainstream per evitare una maggiore affluenza alle manifestazioni Detto questo, noi di Informazione Libera vi aspettiamo sabato prossimo alle ore 17.30 a Milano in piazza Fontana per manifestare contro il Green Pass E prima di concludere questo video, noi di Informazione Libera vogliamo ringraziare le 1.200 persone che ci seguono e che credono in questo grande progetto per offrirvi un'informazione veramente libera e indipendente che tratti le notizie da un punto di vista differente dai media mainstream per ridarvi la libertà che vi è stata tolta, la libertà di parola, di pensiero Grazie e buona serata